Il fiumare è finito perché la sua conformazione è un po' complessa. 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 La sua conformazione è legata anche alla natura e alla bellezza di questi paesaggi. Salendo tra questi crinali, tra vecchi sentieri, mulattieri e vecchi tracciati, si arriva a Gallicianovo. Il panorama è spettacolare. Da qui si riesce a vedere sia la fiumara Mendolea che la fiumara di Condofuri. La Rocca del Lupo in mezzo dove c'è il limite più meridionale del parco dove arriva appena 5 km dal mare. Paesaggi impensabili, paesaggi straordinari dove all'interno c'è il cuore dell'area grecanica. La gente, specialmente la gente di Gallicianovo, che ancora qui, dopo oltre duemila anni, parla il greco antico. Grazie a tutti. Grazie a tutti.